Questa mattina sono state raccolte 20 sacche di sangue, non sono poche, tenendo conto che la giornata è molto calda e c'è bisogno comunque di aiutare chi ha bisogno di sangue. Sì, questo è il decimo anno successivo che organizziamo ad agosto, proprio per dare una mano a chi ha talone patologie, anche come i talassemici, in cui nel mese di agosto soffrono appunto la carenza di donazioni. 20 sacche, 22 sacche, ogni anno manteniamo lo stesso ritmo, ma soprattutto tanti, tanti giovanissimi e tanti, tanti alla prima donazione. Ecco, la prima donazione è fondamentale perché vuol dire che aumenta il numero dei volontari. Sì, aumenta tantissimo anche perché è il decimo anno successivo che facciamo questo tipo di donazione riservata ai 18 anni e ai giovanissimi insieme a Pietro Vitale dell'Avis. Notiamo come basta convincere un ragazzo a donare che automaticamente anche gli amici iniziano questa esperienza bellissima, non solo per se stessi ma soprattutto per aiutare a salvare una vita.